Ben ritrovati per le previsioni meteo. Una saccatura nordatlantica si avvicina all'Europa occidentale ma sembra destinata a sprofondare nei prossimi giorni verso la penisola iberica e questo causerà un richiamo di aria caldissima dal Sahara con picchi estremi nelle giornate di lunedì e martedì, quando potranno essere raggiunti e superati 40 gradi in numerose località del centro-sud. Intanto per il weekend ci attende una fase caratterizzata da temperature superiori alle medie del periodo ma non eccessivamente calde e con cieli velati a tratti coperti. In Abruzzo sarà un sabato all'insegno del cielo a tratti coperto e con possibili debolissime piogge in tutta la regione. La ventilazione insisterà da sud-ovest nei settori occidentali di moderata intensità sui monti e debole altrove, da est nelle aree adriatiche. Le temperature mimie di questa notte comprese tra 15 e 23 gradi e le massime di domani tra 27 e 31 gradi. L'appuntamento con il meteo è per domani mattina. Buona serata.